cominciamo ragazzi in questo video documentario sulle trincee paura trincee della seconda guerra mondiale e della prima guerra mondiale dell'ottantesima ecco i tagliaerba sono partiti se spero girarmi con una manovra solo adesso il film di zoom sta merda mentre ragazzi ora vi fermo a vedere questi meandri che lusto i meandri di tapogliano tanto noi facciamo i bravi mettiamo anche la freccia perché nella mia strada e la ciclano molte macchine che non si sa mai davanti abbiamo i due tagliaerba davanti adesso devi imparare a vedere due tagliaerba ecco li stiamo raggiungendo perché quello di giovani sarà più veloce si quello di giovani sarà più veloce stiamo arrivando vai coglione sto scemo parcheggiamo poi nelle ombre ragazzi per fortuna tutte le trincee sono qua vicino tutto questo qui è un sacchetto per cadaveri qua c'è un sacchetto per cadaveri siamo arrivati nel posto questa è la famosa ferrage no perché mi sta che qua la fauna e la flora è cresciuta perché adesso vi faccio vedere l'ingresso ma che cazzo l'hanno buttata in tutte giù l'hanno buttata ma che pare l'entrata sinistra ah ecco si lo so spero che non sia ortica questa questa ragazzi è una trincea i meandri di queste trincee io ragazzi sento già strani rumori perchè mi sto già cagando addosso merda sono piedi di ragnatelli si si qua si entra ma non c'è un altro non c'è un altro si si merda vabbè avremo le gambe piene di di graffi è vero qua c'era c'è questo chi ha un coltellino tipo quelli di Bear Grylls eh ma sarebbe tipo da togliare sta roba puttana la macchina ah ah io porchi mi sono ah oh my god sono tipo si tutto ma ho tutto ah ah sono preso tutto qua ah anche qua io poi guarda fermo ah maietta di merda sposta le stile sposta le stile ah si ma non mi fa stiuli mi sto già cagando addosso io mi ricordo che tipo qua da qualche parte c'era una è andata avanti ma di Ocar c'era una scarpa mi pare qua mi butto fuori di Ocar però tu vedi qua fai luce ma non c'è zero luce proprio vedi qua qua proprio ah si vede alla fine si ma si vede la luce no ma non fa tanta paura ci pensavo di più ti ricordi quelli stronzi di Epple che prendevamo per il culo per chiedergli noi siamo uguali stiamo facendo la stessa cosa eh guarda quanti laccais vieni ragazzi queste sono le candeline di Ritti ma qua ci sono dei barbù ah ma chiudo no il coglione dai è subito qua all'uscita si ma c'è un altro pezzo oh stifo dai vedo un cai grande qua come me ah ci attaccano io mi becco tutte le ragnatele vi faccio la ah adesso Sviense mi ricordo eh no ma qua è troppo vasto è bene un cammino ma guarda che si scende adesso senti che tanto fa un freddo della madonna qua e qua ma qua è freddo e qua di sotto c'erano cassette che sono esattamente cassette videocassette saranno tipo porno eccole qua ci sono le candeline sui buchi vieni qua davanti lì salto ci sono le cassette i pistravi vieni qua vieni qua vieni qua vediamo dove mettere i piedi vede quattra sono le candeline che roba vieni qua e fai luce guarda questi cunicoli in lui mi la prendi là oh scusa vieni qua avanti ah si è vero vieni qua perché qua perché qua ci sono porcherie no è tipo sempre pantano tipo di qua vedi qua c'è una salita che tipo si può andare ma io mi cago tantone addosso qua c'è una stanzetta che Dio buono cos'è qua dentro ma che fa tantone paura che ci sia qualcuno dentro qua no a parte di scherzo guarda qua c'è già luce vai si vieni qua i barboli e non solo e aspetta lasciami passare così voi camminate con carlo vedete che lo vedo in casa cioè che cazzo di meandri veramente che cazzo di guagliare di buono cos'è dai muoviti Gioana che cazzo di cebato non vuoi guagliare niente no qua uscivi qua c'è tanta di quell'acqua di canale è acqua da torre io porco che cazzo è quella bestia lì madonna sono state tipo sporchi di torre che bestia sì no vi ho detto le scarpe bianche caprivi sta storia guagliare dov'è dov'è che bestiazzo non so era un camion di appolo che volava una rana piccola vai anche la rana ma no non saltava la mia volava sì ma ci sono anche rane piccole se ci sono piante con le spine le calpesti si a forza sono liane qua ma sono piante anche io sei qua le stanzette non ci sono spine capo di pallocchi ma quindi siamo per di lì o non torniamo dentro non è alta non manca là eh la fiuma di un pezzo le scarpe non grampano tanto siamo qua ragazzi oh andiamo a farmi dire per il torre andiamo comunque un giorno andiamo anche su quelle scale là perché oggi mi è venuta la voglia però li attrezziamo no con i torcioni quelli a fiuma quelli si ecco perché se no non si riesce a vedere bene con questa ok